È stato un conclave positivo per quanto riguarda la partecipazione e gli interventi. Così, il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, ha aperto la conferenza stampa relativa ai due giorni di conclave svoltosi a Gualdotadino. Conclave su cui non sono mancate le sottolineature di defezione all'interno della stessa maggioranza, a cui il sindaco risponde così. C'è chi continua a dipingere questa situazione che assolutamente non c'è nessuna evidenza. C'è un centrodestra che discute, c'è un centrodestra che giustamente fa valere le proprie esigenze nell'ambito dei vari partiti della coalizione, ma non c'è assolutamente un problema politico e non si è evidenziato al conclave nessun problema politico. Chi non è venuto al conclave e che è stato dalla stampa giustamente sottolineato, per la maggior parte, direi per quasi tutti, è legato a problemi di carattere personale e non a problemi di carattere politico. Non ci sarà nessun impasto di giunta? Non è previsto, non era all'ordine del giorno del conclave, non ci sono ad oggi presupposti, ci sarà una valutazione del preparato della giunta a primavera e poi lì valuteremo se sarà opportuno fare o meno un rimpasto di giunta. Intanto sono stati sciolti alcuni nodi dei quattro argomenti all'ordine del giorno? Direi che sono stati sciolti tutti i nodi perché sulla TEAM c'è la volontà di andare avanti con la società attualmente pubblica, previa una valutazione di carattere economico-finanziario e soprattutto sentiti comuni che dovrebbero partecipare a questo progetto. Sul personale ci sarà una revisione del regolamento per quanto riguarda la prima età dei dirigenti con una riduzione che arriverà dal 30 al 50%. E' stata approvata la pianta organica che prevede una riduzione dei dirigenti e poi si è parlato del traffico, diciamo in linea generale si va avanti, previo patto per la città, quindi incontro con i cittadini, ecco perché continuo a dire che non serve raccogliere le firme. Sul piano traffico sono stati stabiliti i nuovi sensi unici che prevedono un periodo di prova a partire da gennaio 2015 della durata di tre mesi e un incontro con i cittadini per il confronto su altre zone. Sul bilancio del Comune, infine, verrà attuata un'armonizzazione delle spese attraverso un corso di formazione rivolto alla Giunta. Grazie a tutti.